Gossip Uomini e Donne, Gemma e Giorgio insieme a Natale? Ecco le novità Wingzudian. Uomini e Donne Gossip, ritorno di fiamma natalizio per la coppia Gemma-Giorgio. Gemma-Galgani e Giorgio Manetti passeranno il Natale insieme. E questa la chicca di gossip di queste ore che arriva dal mondo di cancelletto Uomini e Donne, dove sembrerebbe che ci siano delle novità importanti per la storica coppia del Tronover che avrebbe potuto ritrovare la volontà di recuperare il loro rapporto damore e di tornare a stare di nuovo insieme proprio come ibi e i vecchi tempi. La love story tra Gemma e Giorgio, video, infatti, pur essendo finita è rimasta nel cuore di milioni di spettatori e della stessa Galgani, che ha più volte ammesso di non avere dimenticato del tutto il gabbiano. E ancora amore tra Gemma e Giorgio di Uomini e Donne over?. Nel dettaglio le ultimissime di gossip di queste ore su Uomini e Donne rivelano che Gemma nel corso dellultima puntata del programma di Canale 5 ha avuto il coraggio di rivelare ancora una volta a Giorgio tutto il suo amore. Lo ha fatto durante la cena che i due hanno fatto insieme in esterna, dove hanno avuto modo di ripercorrere le fasi salienti della loro storia damore e hanno provato a fare il bilancio anche di quello che sono diventati oggi a distanza di due anni dalla loro separazione definitiva. Ebbene Gemma Galgani ha ribadito a Giorgio che a distanza di due anni dal loro addio in questo periodo non ha fatto altro che pensare a lui e ad oggi sente di esserne ancora innamorata. Una dichiarazione damore che ha lasciato tutti i basiti, in primis Tina Cipollari, la quale però è stata anche quella che ha spronato la Galgani a rivelare i suoi veri sentimenti. Natale damore per Gemma e Giorgio. Cosa succederà a questo punto? Cancelletto Gemma e Giorgio sono andati a cena insieme e hanno avuto modo di trascorrere dei momenti di intimità senza dover fare i conti con i consueti giudizi di Tina Cipollari. In studio, però, il Cavaliere Toscano ha ribadito il suo pensiero di non voler portare avanti di nuovo una relazione con la dama torinese, affermando che ormai considerava il capitolo Gemma chiuso e sepolto. Il Cavaliere Toscano Il Cavaliere Toscano ha ribadito la dama